Oggi ho costruito una cosa bellissima Ora devo aiutarmi per ridare Devo dire una cosa di nuovo, aspettatemi Aspettatemi Lascio un attimo in pausa Per farlo tenere meno Ok, va? Sì, non è più in pausa Ecco qua Ho fatto questo Questo lavoro Un albero bellissimo Come vedete Faccio una pirouette intorno In creativo Poi faccio il mio cane batuffolo 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 Non c'è più una targhetta Eccolo Il mio batuffolo Non lo vuoi, lo scelgo Comunque vi devo vedere un nome Vi devo mettere il nome qua Bat Bat Batuffolo 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 Fatto bene Batuffolo Tu devi andare un attimo da questa parte un po' meglio Perché così riesco a leggerti meglio il nome No Eppure Riesco a vedere soltanto O forse in alto O forse tu sei stupido E non ti metti bene il cerchio Mi metti bene O forse tu sei stupido E vai E vai O forse tu sei stupido E vai O forse tu sei stupido Ecco Ho fatto un bel alberello L'entrata E dall'altra parte del mondo Provecino alla casa di Batuffolo Anche mi mi è utilizzato bene Perché così non mi sono i ladri Posso aggiungere un po' di roba Così tipo C'è forse Ecco così ogni volta posso sapere quando sarà giorno e notte Come voi dovrete aiutarmi E dovrete dare la casa Mi sarò visto lì Perché ho visto io qua Sono ovviamente qua allora No No Allora qua Andare controllo meglio Che ho controllato madre di dio Questo che non mi trovo E questo però c'è tutta roba Va bene cerco E Finalmente Mi servono per una buona ragione Buonissima E' buonissima la ragione Però Voglio questo tipo Sì Questo tipo E poi E poi Questo Lo metto Qua Mi servono molto Perché devo fare La mia zona Il divano Ovviamente Ecco qua No Forse un po' più piccolo Non si riesco a capire un po' di niente Che il mio divano E' sempre così Bello Ma perché si sento come questo? Ma che c'è? È un alieno Allora Sto cominciando a avere paura Perché penso che sia aeroplane Non c'è Non c'è Perché se c'è Mi spunta davanti Ma che c'è 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 Aspettate Mettete un attimo in pausa Ok Non so come ho fatto Mettere questa roba Ok 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 Vabbè Ho riuscito tanto Di divano Quando faccio un divano Ho sempre paura Di quello Che mi spunta davanti Tipo Se mi spunta Qui per dietro Succede Pugale Succede La notte rotta Mannaggia Qua Qua Quando arriva Veramente la notte Qua no Qua Eccolo Questo Questo E questo Perfetto Che bello Adesso vado a letto Lo stendard Proprio come quello E Mi faccio Della magia Eppla E' bello Forse Forse devo metterci Una lucina Sotto Al posto Al posto del Questo De questo De questo Al posto De questo Qua Vai E te Qua Vai E ora E ora Perché Perché ce ne sono due Non ho messo uno Vabbè Goodbye Come dare Che non ho messo più in pausa E poi E poi non ho messo più in pausa E va E va E va E' successo un attimo Un imprevisto E' la porta La porta Di quella Porta Non chiedetemi Cosa ho detto Qua ci farò Tutta la sala Bellissima Devo farci Ancora Una cosa Bella Che è Qua Che c'è Che c'è Eeeh Non ho messo più in pausa C'è Adesso Io arrivo a notte Non è notte Dove Non ho messo No E' una barra E' E' Qua Devo facci una tv Devo trovare Perfetta No No E' E' Prendo Un bel vetrino nero E' Dove lo metto Qua E' Poi E' Poi E' Poi Cercherò Il calcestruzzo Colui E' Un'altra cosa Aspetta Forse Terna Fotto Terna Allora Calcestruzzo 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 Ok La tv La tv Vado a mettere L'HD 1 2 3 4 C'è un po' di raffreddore Ecco perché parlo Un po' così E' Qua E' Qua Ecco qua La tv Scherma Ecco qua Ecco Ecco Guarda Ah Aspetta Oh no no Non viene ancora finito Qua Sotto ci metto Una bella roba Eh la batteria Mannaggia Almeno male che c'ho il carico Batteria Mannaggia Mi è caduto Dalle mani Vado a incaricare Ci metterò Questa sabbietta Sì Sì La sabbietta La sabbietta La sabbietta Per gatti Perché il mio cane Ce la fa dentro Ecco qua Non voglio Sare questo Bellino Come mia nonna C'è il tavolino Di vetro Sotto la tv E' ok Allora Allora Così Adesso Devo metterci Questi Ovi neri Che Dovrebbe essere Abbastanza nero Sì Abbastanzissimo Così Non riesco Le scale Per l'altro Adesso Si Si Asciugge Comunque Cos'ho fatto Di male Per Di ritardo Di ritardo C'avevo una tv Ht Non sapere Non sapete come Ecco Sì Che lo sapevate Comunque E' questo Il volore Per l'altro Che lo sapevate Che lo sapevate Che lo sapevate Oh, quelle belle! Non sono tanto belle perché è tutto nero Però, guardate, non ne vale la pena È bruttissima, è bruttissima Allora Eh mamma, non ce la fa Poi ora ci faccio un bel tavolo Un bel, grande Qua Qua Non c'era più bello Si, lo faccio così Lo faccio così Eh, eh Il brutto è che ci sono le robette Questa robetta La cosa più brutta Sta tornando un bel po' il video Non credo tantissimo Per un bel po' Poi qua sopra cosa ci metto? Il lago di Garda? Il tappeto, perché il tappeto? Il tappeto deve essere così 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 Ecco quel tappeto Il tavolino Ultramaster Pio mila Ha 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 Comunque domani 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 dovrò andare Quindi farò il secondo video tra un po' Tra un po' eh E la batteria si è staccata E la batteria si è staccata Ma cos'è accaduto? Eh, immagino Poi qua sopra c'è un po' Poi qua sopra c'è un po' D'oggio Però E' notte Norma C'è Troppo C'è una paura di questo mondo Una volta Pensavo che c'era proprio O la prima La prima volta che ho visto Un portale Già fatto Pensato che c'era Ho pensato che c'ero Ma non ci metterò mai più piedi in questo mondo Poi ho visto che anche gli altri youtuber C'erano questi versi I versi mi fanno ancora paura Noi portali Dimmi Eeeh Ma il so Ha smesso di più? Si L'ha accaduto No, non è vero Allora Eeeh Non voglio che finisca qua il video Lo faccio Qualcos'altro Tipo Cosa potrei Uh però Però Qua No però Il peccato che non è unaua mai nione 啊 Ah 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 Nour Ben Sto pensando, robe brutte, poi questo vetro è azzurro e viola e poi anche rosa, poi un po' di foglie secche, ci vanno sempre di volo, poi ho visto un tizio, sono io che piace le robe e ho il mio cane che sta combattendo, io alleno ogni giorno a fare queste robe, aspetta devo allenarlo allora anche questo giorno, è da un anno che non ci gioco con questo mondo, ho migliorato, ho finito, era dall'altra parte Lisa, eccola, su, qua, là, io ho dato un po' troppi ossi, stai cuccia, cuccia, qua, cuccia, cuccia, ok, Ho visto che comunque abbiamo finito l'episodio e a dopo, a dopo, anzi no, tra una settimana farò un altro video, perché non lo voglio ne fare a un altro adesso, ne farò un altro domani, quindi fra una settimana lo farò, perché io non ci sarò per una settimana, andrò dalla mia mamma, che questo è il mio primo papà che ho avuto, una storia lunga, non chiedetemi, perché c'ho due papà, insomma, un po' bene venuta, però l'unica cosa che non mi piace è questa parte che cola, la voglio togliere comunque, è stato bellissimo, ritornare in questo mondo, ho schiacciato l'ultimo mondo, il primo mondo che ho fatto, non mi aspettavo che ho fatto un mondo così bello, la prima volta che ci ho giocato, comunque, posso mettermi a vedere noi in F5, ho manco in F5, no, 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 non mi hai capito, voglio mettermi in F5, vabbè, quindi ciao e a domani, fra una settimana, ciao.